Cari amici, bentornati in questa nuova puntata di Vivere in Armonia. C'è una parola che molto spesso, negli ultimi periodi, si sente pronunciare. Cherofobia, cioè la paura della felicità. E dobbiamo questa diffusione ad una canzone, molto probabilmente, Cherofobia, di una partecipante a X Factor. Tra l'altro, proprio a causa della sua giovane età, sono stati scritti tanti articoli rispetto al fatto che questa paura sia molto più diffusa tra i giovani, tra gli adolescenti, quindi. In realtà, oggi vedremo come questo è qualcosa di molto più diffuso. Addirittura si parla di una diffusione dalla cultura orientale che invade la cultura occidentale. Quindi, andiamo a scoprire che cos'è la Cherofobia, la paura di essere felici. Per parlare dell'argomento di oggi, ho deciso di fornirmi di alcuni riferimenti provenienti dalla ricerca scientifica. Quindi ho trovato un articolo che sintetizza molto bene una ricerca. L'articolo è pubblicato sul British Psychological Society, quindi un attestato online. E la ricerca, invece, è di due ricercatori dal nome Joshanlu e Vajers. Vajers, comunque, penso di aver pronunciato bene il nome. Non me ne voglia chi invece conosce la reale pronuncia. Di che cosa si parla? Beh, innanzitutto si parla del fatto che la paura di essere felici è qualcosa che dobbiamo iniziare ad accettare anche nella nostra società occidentale. Come ti dicevo, ha un'origine molto spesso riferita alla cultura orientale. Cultura che quindi si basa su religioni, movimenti filosofici, dove esiste effettivamente un allontanamento dalla felicità. Un allontanamento dal piacere stesso. E allora quindi è qualcosa che effettivamente dobbiamo prendere atto, esiste anche nella nostra società. Mi piace questo articolo e questa ricerca proprio perché ha questo taglio culturale. E allora si dice che possiamo identificare quattro principali punti che hanno radici profonde nella cultura. Innanzitutto il fatto che si allontani la felicità perché subito dopo alla felicità per le leggi del taoismo e quindi per le leggi dell'azione inversa potremmo dire si susseguono momenti tristi. Quindi effettivamente non voglio essere felice proprio per evitare il fatto di affrontare subito dopo la delusione di qualcosa di triste. Il secondo punto invece riguarda il fatto che essere felici ci renda delle persone peggiori. Per esempio noi italiani siamo un popolo che nonostante le nostre sofferenze anche storiche ma senza fare riferimento alla storia nel nostro momento presente comunque ci adoperiamo cioè ci ingegniamo in modo tale da essere creativi per poter superare i momenti critici. Ecco un pensiero nella cultura orientale è proprio questo il fatto che non avendo delle problematiche da affrontare allora la creatività cala a picco quindi ci rende persone peggiori nel senso di essere persone meno creative ma anche in un senso molto più esteso. Poi il terzo punto riguarda l'espressione della felicità cioè diventa un vero e proprio problema esprimere la propria gioia, la propria felicità perché questo potrebbe danneggiare gli altri. A livello sociale potrebbe addirittura causare invidia oppure un senso di inadeguatezza. una persona potrebbe vedere i nostri successi e sentire invece il peso ancora maggiore del proprio fallimento quindi esprimere felicità a sua volta non rende soltanto persone peggiori noi ma anche la società alimenta un modo di agire che non è umano ma totalmente negativa. E poi la ricerca, il perseguire la felicità rende comunque delle persone troppo centrate su se stesse. Questo è un forte riferimento soprattutto alla diffusione della crescita personale sul stampo americano dove culturalmente l'America ha questa concezione del self-made man cioè dell'uomo che si crea e si costruisce da solo così come all'opposto alla concezione del parassita della società una persona che rimane in casa per esempio dei propri genitori per troppo tempo viene considerato proprio un parassita qualcuno che non si adopera ma prosciuga le risorse sociali e quindi la ricerca continua della felicità è proprio legata a questo senso di egocentrismo faccio di tutto per essere felice e per arricchire il mio ego. Va da sé che quindi queste radici culturali si basano comunque su culture diverse dove probabilmente c'è anche una concezione diversa rispetto alla felicità stessa. Per esempio qualcosa che possiamo distinguere è il piacere dalla felicità il piacere inteso come una ricerca ossessiva, continua, costante del possesso quindi felicità uguale avere e invece la vera felicità che dagli anni venti più o meno più o meno soprattutto grazie alle ricerche e allo sviluppo psicologico nel campo della psicologia è più la felicità collegata a uno stato interiore che rispetto ad uno stato esterno quindi un accumulo o un raggiungimento di qualcosa di materiale che risiede al di fuori di noi. Quindi c'è già questa difficoltà di fondo rispetto a cosa sia la felicità che quindi alla fine dato che comunque questo argomento è tema di dibattito da secoli si sono confrontati filosofi, scuole di pensiero su questo magari si risolve poi rispetto a un piano soggettivo di cos'è per noi, per me, per te che stai ascoltando la felicità in sé e può essere utile quindi già fare questa distinzione tra piacere intesa come avere e invece la sensazione di gioia, l'emozione, lo stato della felicità. Poi a livello personale effettivamente allontanarsi dalla felicità è qualcosa che protegge cioè averne paura ci fa stare al sicuro perché in questo modo non dobbiamo affrontare quello che subentra nel momento in cui dobbiamo fronteggiare la delusione di uno stato di felicità dobbiamo fronteggiare la tristezza rispetto a quella sinusoide come la possiamo immaginare dell'alternarsi tra momenti felici e momenti più tristi quindi probabilmente ogni persona ha la propria esperienza probabilmente mi viene da pensare una storia molto felice che però a un certo punto si è conclusa con un tradimento e questo crea sfiducia crea sfiducia nei rapporti interpersonali nei rapporti affettivi in sé ma anche sfiducia rispetto alla felicità c'è sempre quel chi va là quando si sta tendendo al proprio benessere al proprio accorgersi di essere wow per un attimo mi sento felice allora cos'è che può non andare? cos'è che può andare storto? e a questo si collegano sicuramente anche alcuni meccanismi che sono tipici dell'autosabotaggio come si risolve allora tutto questo unpass? cioè come superare la paura della felicità? sicuramente un grosso lavoro sulla propria consapevolezza innanzitutto essere consapevoli del fatto che felicità e tristezza sono due stati che non sono necessariamente correlati cioè non c'è una legge che prevede che ha uno stato di felicità e si sussegue uno stato di estrema tristezza più che altro se proprio vogliamo vederla nel complesso, nell'insieme quello di cui stiamo parlando si chiama vita cioè nella vita ci sono momenti in cui si sta al top momenti in cui invece si ha uno stato d'animo felice mediamente felice, si sta bene e momenti invece in cui si contattano emozioni come la tristezza il dolore e così via è proprio la vita, la vita è fatta in questo modo un susseguirsi di alti e bassi non potremmo mai avere una vita sempre felice perché non sarebbe autentica così come non potremmo mai avere una vita sempre triste anche se questo a volte invece succede e allora una volta presa questa consapevolezza che il susseguirsi e la vita e che esiste la felicità, esiste la tristezza e non necessariamente sono unite che cosa fare? effettivamente quello che possiamo fare è scegliere ed elaborare il nostro modo di poter affrontare queste diverse situazioni e qui mi rifaccio a un grande Frankel che ha vissuto il dramma dei campi di concentramento e nonostante tutto ha fondato quella che chiama la logoterapia cioè la terapia del senso della vita in cui dice non è tanto il contenuto ma è come lo si affronta e lo si può affrontare nel migliore dei modi quindi non al massimo ma possiamo cercare di farlo nel migliore dei modi rispetto a quelle che sono le nostre risorse se scegliamo di ricercare un senso e allora in questo caso si parla molto di poter decidere se avere una retrospettiva rispetto a quello che si è vissuto ad esempio una retrospettiva di rabbia, di tristezza, di delusione oppure avere una prospettiva, al contrario, una prospettiva di fiducia cioè un po' affidarsi tutto questo passa anche per il essere presenti e avere consapevolezza avere consapevolezza che comunque vadano le cose io sono qui, sono presente lo vivo pienamente e non solo scelgo di poterlo fare al massimo e al meglio delle mie risorse e delle mie potenzialità e quindi attingere non all'esterno ma alla propria interiorità questa era la riflessione sulla paura della felicità sulla cherofobia che se ti è stato utile ti invito come sempre a condividerlo con le persone che possano trarne beneficio e se invece vuoi ricevere una riflessione extra ogni mattina attraverso un messaggio whatsapp inviami sul 329-3211-971 la parola consiglio oppure vai su sebastianodato.it e ti unirai al nostro percorso che chiamiamo Training alla Gioia totalmente gratuito ma una parola giorno dopo giorno può davvero fare la differenza un abbraccio alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti